Barbara D'Urso si sta godendo appieno, la sua vita, in questo anno appena passato lontano dalla televisione. Forse dopo così tanto lavoro ininterrotto, un break le ci voleva anche per capire realmente se stessa e i suoi obiettivi di vita. L'abbiamo vista fare un po' di tutto in questi mesi, volare a Londra, tornare al suo primo amore, cioè il teatro e rilasciare un'intervista da quella che fino a un po' di tempo fa avremmo chiamato la concorrenza, cioè il ride a Mara Venier. Inoltre si sta divertendo molto con la sua famiglia con la quale ha passato delle rilassanti vacanze in Sicilia, mentre attualmente è sbarcata a Formentera con gli amici per rilassarsi prima di quello che ha detta di chi Magazine dovrebbe essere il suo grande ritorno in tv. In realtà qualche tempo fa la stessa D'Urso aveva rivelato ai fan che l'avrebbero vista di nuovo sul piccolo schermo. Gli sarebbe bastato soltanto cambiare canale. Barbara D'Urso si sta godendo appieno, la sua vita, in questo anno appena passato lontano dalla televisione. Forse dopo così tanto lavoro ininterrotto, un break le ci voleva anche per capire realmente se stessa e i suoi obiettivi di vita. L'abbiamo vista fare un po' di tutto in questi mesi, volare a Londra, tornare al suo primo amore, cioè il teatro e rilasciare un'intervista da quella che fino a un po' di tempo fa avremmo chiamato la concorrenza, cioè il ride a Maravenier. Inoltre si sta divertendo molto con la sua famiglia con la quale ha passato delle rilassanti vacanze in Sicilia, mentre attualmente è sbarcata a Formentera con gli amici per rilassarsi prima di quello che ha detta di chi Magazine dovrebbe essere il suo grande ritorno in tv. In realtà qualche tempo fa la stessa D'Urso aveva rivelato ai fan che l'avrebbero vista di nuovo sul piccolo schermo. Gli sarebbe bastato soltanto cambiare canale. Barbara D'Urso si sta godendo appieno, la sua vita, in questo anno appena passato lontano dalla televisione. Forse dopo così tanto lavoro ininterrotto, un break le ci voleva anche per capire realmente se stessa e i suoi obiettivi di vita. L'abbiamo vista fare un po' di tutto in questi mesi, volare a Londra, tornare al suo primo amore, cioè il teatro e rilasciare un'intervista da quella che fino a un po' di tempo fa avremmo chiamato la concorrenza, cioè il ride a Maravenier. Inoltre si sta divertendo molto con la sua famiglia con la quale ha passato delle rilassanti vacanze in Sicilia, mentre attualmente è sbarcata a Formentera con gli amici per rilassarsi prima di quello che ha detta di Kim Magazine dovrebbe essere. Il suo grande ritorno in tv. In realtà qualche tempo fa la stessa D'Urso aveva rivelato ai fan che l'avrebbero vista di nuovo sul piccolo schermo. Gli sarebbe bastato soltanto cambiare canale. Nella vita lavorativa di Barbara D'Urso qualcosa bolle in pentola. Questo è poco ma sicuro. Per il momento non sappiamo se approderà realmente sul canale 9, come vociferano in molti o sulla Rai insieme a Millie Carlucci a Ballando, con le stelle o in qualche altra emittente televisiva. Oggi sappiamo solo che la conduttrice festeggia il suo primo anno di attività con la bieffable Events & More, creata e portata avanti con la sua amica e socia Francesca Caldarelli. Le due, sempre belle e super fashion, posano in quello scatto in maniera fiera pensando a quello che sono riuscite a realizzare. Rilasciando queste parole. È passato un anno. E sì, proprio un anno fa io e Francesca abbiamo deciso di unire amicizia, allegria, passione, entusiasmo, gioia.